Buonasera, benvenuti a questa sessione applicazioni ed esperienze di database spaziali topografici e GIS, sessione particolarmente viva e che ci fa vedere come l'informazione geografica sia applicata ai più disparati campi con risultati di assoluto interesse. Io sono Andrea Fiduccia, non rubo spazio ai relatori. Dobbiamo necessariamente passare al paper successivo, che è G4More. Buon pomeriggio. In questo intervento intendiamo presentare il lavoro che è stato svolto per arrivare all'implementazione di questa seconda versione che è stata ottenuta proprio negli ultimi mesi, di questo programma dedicato al soccorso, alla ricerca di dispersi in ambienti montani, in ambienti ostili in generale. In particolare, quello che vorremmo fare è velocemente vedere quali sono state le fasi di sviluppo e le principali funzioni del prodotto nella sua prima versione, quella disponibile a partire dalla fine del 2012, quindi un anno fa circa. Nella seconda parte del mio intervento, vedere invece quali sono state le migliorie avvenute proprio negli ultimi mesi con l'introduzione di nuove funzioni aggiuntive, derivate proprio dall'utilizzo e dalla sperimentazione effettuate negli ultimi mesi con i volontari impiegati nelle fasi di ricerca dispersi. Beh, innanzitutto una brevissima introduzione sull'importanza della cartografia, delle tecniche sia cartografiche e soprattutto della cartografia digitale, quindi dei sistemi informativi territoriali o GIS e dei dati GPS che hanno un'importanza fondamentale durante le fasi di ricerca dispersi soprattutto in ambienti di tipo montano. Queste tecnologie sono sicuramente importantissime, però un po' come detto nella prima presentazione del professor De Donatis spesso sono tecnologie poco accessibili all'utente finale sia esso il turista che gira sui sentieri ma anche per i volontari del soccorso alpino piuttosto che i tecnici dei vigili del fuoco, della protezione civile che sono poi quelle persone impegnate nella ricerca dispersi. Esistono molteplici prodotti commerciali, open source o altro, di tipo GIS, ne ho rappresentato solo alcuni ma tutti questi prodotti avrebbero probabilmente una serie innumerevoli di funzioni che possono essere utili ma non sono specificatamente dedicati, non sono customizzati su chi deve poi effettuare le ricerche. Tutto è partito da una tesi di laurea, molto brevemente, qua scorrerò veloce per ragioni di tempo una tesi di laurea che era più indirizzata diciamo in generale all'accessibilità territoriale montana a partire da quella abbiamo compreso che vi erano delle funzioni che potevano essere molto utili soprattutto quella che va a trovare un'area in cui una persona può essere andata in un determinato periodo di tempo a partire da questa funzione che è una funzione prettamente GIS abbiamo deciso collaborando quindi facendo questo cosiddetto living lab cioè collaborando fianco a fianco dei volontari del soccorso alpino di Genova che si sono prestati diciamo a questa collaborazione di sviluppare un vero e proprio prodotto che coniugasse queste funzioni GIS con la gestione vera e propria delle squadre impiegate durante le fasi di ricerca dispersi e siamo arrivati, quindi sono passati un po' di anni rispetto alla prima tesi di laurea circa sei anni, allo scorso diciamo a fine del 2012 ad avere un vero e proprio prodotto che potesse essere testato tramite un test operativo sempre col soccorso alpino di Genova che è questo G4MORE cosiddetto che starebbe GTER perché noi siamo uno spin off dell'Università di Genova che si chiama proprio GTER per il soccorso alpino quali erano le esigenze? appunto banalmente gestire la cartografia digitale tra l'altro non è un caso che in questa slide rappresentiamo appunto la cartografia digitale di OpenStreetMap mi ricollego sempre alla prima presentazione non so chi di voi ci fosse esistono sicuramente anche in Liguria ad esempio abbiamo la rete dovremmo avere la rete escursionistica Liguria per ora purtroppo per una carenza di fondi i dati sono ancora molto scarsi quindi alla fine a livello sentieristico il database che abbiamo trovato più attendibile è proprio quello di OpenStreetMap che tra l'altro si rivela molto utile si rivela molto utile anche per la seconda grossa esigenza del soccorso alpino che è quella dell'interazione con i GPS quindi interagire con i GPS significa avere la possibilità di inviare dei dati al GPS quindi le aree di ricerca e di ricevere dei dati con le tracce può essere altrettanto molto utile avere anche lo stesso sfondo cartografico sia sul computer o sulla sede operativa questo dipende un po' dai tipi di ricerca sia sul GPS utilizzando per esempio fonti open come OpenStreetMap questo è possibile perché si può avere lo stesso sfondo anche sul GPS e questo anche se è di per sé una banalità abbiamo visto che poi nella pratica è veramente molto utile infine l'altra esigenza molto forte è quella di gestire informazioni relative alle squadre nelle squadre durante le fasi di ricerca dispersi ci possono essere volontari volontari qualificati volontari non qualificati anche persone che si presentano all'ultimo minuto anziani, meno anziani, giovani ci sono persone appartenenti a enti quindi vigili del fuoco volontari della protezione civile carabinieri e così via quindi è molto importante gestire tutto questo personale e quello che siamo riusciti a fare diciamo ha due grosse caratteristiche il fatto di velocizzare le operazioni di ricerca dispersi che è fondamentale e poi di essere tarato esattamente sulle esigenze degli enti e quindi di non avere tutta quella complessità dei prodotti GIS che presentavo nella prima slide velocissimamente non voglio annoiarvi troppo si basa su un server virtuale e quindi che può essere installato sia su veri e propri server qualora si disponga di una centrale operativa ma per ora nella maggior parte dei casi è un server virtuale che risiede all'interno di un computer di un computer portatile poi di fatto che viene utilizzato in loco quindi essendo un server virtuale è un server virtuale Linux ma sostanzialmente il client cioè quello che poi si vede può essere utilizzato su qualsiasi sistema operativo e questo diciamo è un altro grosso vantaggio quali sono le caratteristiche appunto del prodotto ha un'interfaccia web di fatto pur come detto lavorando in locale che semplifica di molto diciamo tutte le funzionalità GIS tipicamente GIS è possibile digitalizzare le aree di ricerca è possibile interagire col GPS gestire waypoint o altro c'è poi una parte gestionale relativa al personale alla scusate alla locazione delle squadre alle aree di ricerca a un cronologico esiste un cronologico delle comunicazioni e il database con le informazioni relative ai dispersi infine ci sono delle funzionalità vere e proprie GIS in particolare quella fondamentale è l'individuazione dell'automatica dell'area a più alta probabilità di ritrovamento del disperso quella di un'individuazione delle scarpate delle possibili superfici o altre funzioni quali l'analisi di visibilità o altri tipi di cartografia tematica funzioni queste più specifiche in funzione anche della disponibilità di dati di partenza da parte degli enti stessi cosa è stato fatto questo diciamo era G4More lo scorso anno cosa è stato fatto negli ultimi mesi proprio cominciando ad applicarlo ad utilizzarlo e grazie ai feedback dei volontari e di persone anche con le quali che lavorano tutti i giorni con le quali abbiamo dialogato innanzitutto l'interazione con i device mobili è stata parzialmente migliorata trattandosi di un server virtuale non era sempre così semplice o così immediato diciamo l'interazione GPS server è stato quindi realizzato un vero e proprio script tramite Python quindi cross platform per facilitare questa funzione quindi per semplificare il passaggio delle tracce dal GPS quindi da un Garmin qualsiasi Garmin e Magellan qualsiasi a G4More e inoltre c'è anche una nuova interfaccia per visualizzare le tracce e eliminare eventuali tracce presenti sui GPS non esattamente dell'intervento stesso sono state aggiunte delle funzionalità grafiche nuove certe anche banali che però si rivelano molto utili quali la presenza di articoli cartografici più utilizzati oppure semplificazioni per rendere visibili o meno le aree create per zoomare sulle aree create e così via e anche una maggiore semplicità nella creazione di Waypoint e infine è stato anche risistemato il core del programma che come dicevo prima è basato su un server virtuale passando a una nuova versione supportata a lungo termine che quindi garantisce ci garantisce già oggi su uno sviluppo un mantenimento almeno fino al 2017 e ancora sono state aggiunte dei dati alcune tabelle per contenere dati relativi al soccorso in forra che è una tipologia di soccorso un po' diversa rispetto a quella in generale in ambiente montano ma la grande utilità è quella di avere un unico prodotto informazioni di diverso tipo questo si rivela molto utile perché l'ente deve conoscere un solo e lavorare con un solo tipo di prodotto in particolare ho quasi finito necessario conoscere lo sviluppo planimetrico del plano altimetrico delle forre eventuali punti a rischio quindi calate tuffe e così via e infine per gli enti che devono effettuare il soccorso i punti di accesso concludendo è un prodotto quello che abbiamo ottenuto con questo prodotto soprattutto grazie a questo Living Lab e quindi all'interazione con gli end user è stato un prodotto che ormai è pronto per essere utilizzato in questo momento è in dotazione alla stazione di Genova del soccorso alpino che lo sta utilizzando per ora ancora in accompiamento ai metodi tradizionali infine quali sono i possibili sviluppi io ho fatto vedere una serie di funzioni già esistenti o comunque implementabili ad hoc funzionalità GIS che possano essere inserite all'interno del prodotto utilizzando degli standard in particolare gli standard del web processing service è possibile aggiungere sarà possibile aggiungere ulteriori funzionalità quindi diciamo che lo sviluppo di questo prodotto va di pari passo con lo sviluppo di funzionalità GIS e soprattutto diciamo i GSMS o i location based service possono essere lo strumento ideale sia per la visualizzazione come ho scritto in questa slide real time dei spostamenti delle squadre ricerche sia sarà possibile anche e stiamo studiando proprio in questo ultimo periodo un'interazione con i dati provenienti dagli utenti è difficile chiamarli utenti in questo caso ma dal da chi va in montagna quindi dall'eventuale disperso per esempio stiamo pensando all'utilizzo proprio del GSMS che non richiede grossa rete perché si tratta di mandare un SMS con delle informazioni geografiche che possa essere inserito direttamente dentro lo strumento quindi letto e visualizzato e quindi potrebbe aiutare a velocizzare ulteriormente la ricerca e ho concluso ringrazio spero nei tempi stiamo cercando di tenere i tempi in una maniera devo dire eroica ci sono domande? perché io ne ho una invece supporto del protocollo CAP? il CAP è il Common Alerting Protocol che viene utilizzato per lo scambio di messaggistica su situazioni di emergenza in questo momento non ancora però proprio quello forse scusate in questo momento non ancora è proprio quello a cui accennavo nella slide finale questo è anche pensavamo in generale ai sistemi di alerta tramite web il silenzio regna e quindi passiamo all'ultimo ma non a cui accennavo a cui accennavo in generale